Musica Finisce 0-0 Matese Vigor Senicali allo stadio ferrante di Piedimonte almeno 4 le occasioni per la squadra di Urbano di portare a casa la vittoria la squadra esce comunque fra gli applausi dei tifosi e con Corrado Urbano soddisfatto al termine della gara Allora i punti avreste vinto voi però la palla in porta non è entrata Beh è stata una bella partita anche se il risultato di 0-0 potrebbe sembrare a chi non l'ha vista una partita piatta e scialba invece non è stato così è stata una gran bella partita due squadre che si sono affrontate a viso aperto noi sicuramente abbiamo avuto più di un'opportunità soprattutto nel secondo tempo di poter passare in vantaggio abbiamo sbagliato dei gol Sedola col piede destro peccato A parte Sedola un paio di occasioni anche Sorrentino stesso ricamato insomma le occasioni le abbiamo create poi dopo ci poteva stare anche la beffa finale che hanno avuto un'occasione loro verso la fine sarebbe stata veramente una grandissima beffa per noi però ci prendiamo questo punto accettiamo il verdetto del campo la cosa importante è che la squadra è viva che prosegue la scia dei risultati positivi Ecco siamo giunti all'ottavo domenica la nona magari Eh la speriamo non sarà facile però noi ce l'auguriamo insomma da Piedimonte Matese è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it a Piedimonte Matese è tutto a Piedimonte Matese è tutto a Piedimonte Matese è tutto a Piedimonte Matese è tutto